Bentornati a Economy Up, non c'è successo senza rischio il titolo di questa puntata nel corso della quale vogliamo raccontarvi quanto sia necessario sapere e volere scommettere su un progetto nel momento in cui si decide di fare impresa. Questo sia che ci si trovi nei panni dell'imprenditore che in quelli dell'investitore, panni in cui tutti oggi possiamo trovarci soprattutto quando si parla di nuove imprese innovative grazie a delle normative entrate in vigore da pochi mesi. Di questo parleremo nella prima parte della puntata con i nostri ospiti, l'avvocato Antonio Tomassini, fiscalista e partner dello studio legale DLI Piper e Luca Canepa che è consigliere delegato di IBAN, IBAN è l'Italian Business Angel Network, cioè l'associazione che riunisce i business angel. Vedremo meglio cosa sono, ma possiamo anticipare che sono delle figure che catalizzano la capacità e la volontà di rischiare sulle nuove imprese.